Buonasera amici di Reteotto, ben trovati dal ridotto del teatro stabile dell'Aquila per raccontare i 95 anni della storia dell'Aquila Calcio. Lo faremo in compagnia di ospiti di prestigio, alcuni stanno per arrivare per raggiungerci qui al ridotto del teatro stabile. Intanto un saluto alla regia dallo studio centrale di Andrea Di Fabio, quella di Donatello Ricci qui dal teatro stabile dell'Aquila, Alberto Capo e tutti gli amici del service che ringrazio per la collaborazione con me. Luca Sanderra, allenatore della storica vittoria del campionato 1997. Ciao Luca, buonasera. Buonasera a voi. Giampaolo Arduini, storica firma del giornalismo aquilano, a cui affiderò, metterò in mano la storia dell'Aquila Calcio. Buonasera Giampaolo. Buonasera. Grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito. C'è il presente dell'Aquila, il presidente Massimiliano Barberio. Buonasera presidente. Buonasera. Grazie anche a te per aver accettato il nostro invito. E un'altra firma non prestigiosa, di più del giornalismo aquilano e non solo, quella di Giustino Parisse. Ciao Giustino, buonasera. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Ci stanno per raggiungere due calciatori, tra un po' li vedremo, che hanno fatto la storia dell'Aquila Calcio. Pietro Ferzoco e Davide Di Nicola arriveranno a brevissimo. Intanto, io con il presidente Barberio voglio subito risolvere un interrogativo, presidente. L'Aquila Calcio, la vostra società, si chiama l'Aquila 1927, ma è iniziata proprio in quell'anno la storia del calcio aquilano? Allora Enrico, io approfitto per chiarire questo discorso, perché ci sono state un po' di polemiche, ma non facciamo finta di nulla. Nel senso che l'Aquila è innanzitutto la nostra propria società, da quando ce l'abbiamo noi tifosi, del 2018, peraltro. No, perché dopo il fallimento. Però convenzionalmente, insomma, l'Aquila parte nel 1927. Le prime partite di calcio all'Aquila si hanno notizie addirittura del 1915 e nel 1931 ci sono le prime federazioni dove l'Aquila è stata iscritta. Quindi, diciamo, nelle altre piazze si cerca di tornare magari più indietro nel tempo. Qui facciamo polemiche per arrivare dal 27 al 31, però lasciamo stare così e l'Aquila convenzionalmente nel 1927. Gian Paolo Artuini, com'è la storia del calcio aquilano? Un aggettivo e poi subito una tua introduzione. È una storia interessante e sicuramente bella, appassionante. È una storia che ci lega al nostro passato, a quelli che sono stati magari i nostri genitori, i nostri nonni, i tanti tifosi che ci hanno così trasmesso questa passione per il calcio. Io ho cominciato da ragazzino a frequentare lo stadio Il Fattore, accompagnato da mio padre e ricordo che all'epoca si giocava in Serie C, ricordo i presidenti dell'epoca, Sansone, Ubaldo Lopardi, via dicendo, risalendo anche con Gildino De Felice, con tanti colleghi giornalisti che purtroppo non ci sono più ma che voglio ricordare perché hanno seguito con passione, con amore, con tanta professionalità, quale Franco Giancarli, Alessandro Orsini e Stefano Vespa che purtroppo è recentemente scomparso. E poi tanti altri che sono fortunatamente ancora in vita ma che, insomma, sono sempre presenti tra di noi, anche se non tutti li vedo allo stadio recentemente. Questa storia nostra è una storia di passione, di amore, soprattutto per il colore rosso-blu, per il colore di questa squadra. È una passione per una squadra che è stata la prima, ricordiamola, ad andare a giocare la Serie B, ma poi purtroppo a causa di quello che è accaduto a Contegliano è scomparsa. E ha giocato nei purgatori della Serie D, io dico nell'inferno dell'eccellenza, per troppo tempo recentemente, a causa anche di guai dovuti alle gestioni, non sempre attenti, oculate, ma comunque credo che finalmente, da quando questa società, arriviamo ai giorni nostri, è in mano a tifosi, è la squadra della gente, da quando siamo in mano a questi ragazzi che sono veramente bravi, io dico ragazzi perché rispetto a me sono molto più giovani, quindi mi permetterete, però dimostrano di essere dei grandi professionisti, dimostrano di essere all'altezza, io credo che in qualunque momento fossero stati dentro la società dell'Aquila Calcio avrebbero sicuramente gestito in maniera ottimale. Chissà se con loro questa squadra falliva o questa squadra adesso non stava magari nei campionati che più le si addicono, perché l'abbiamo visto ieri allo stadio di Acquasanta, che bel pubblico abbiamo avuto e che bel pubblico segue l'Aquila. È una squadra che in eccellenza ha un pubblico quantomeno di serie C e francamente dover stare ancora purtroppo a soffrire in questi campionati così difficili, quando invece purtroppo a causa di tutti gli eventi che ci sono stati saremmo potuti stare decisamente in altri campionati. Questo la dice lunga su come il mondo del calcio spesso non è un mondo che ci appartiene. Tra i campionati più belli della storia dell'Aquila c'è stato quello con due giovanissimi allenatori alla guida, Stefano e Luca Sanderra, è stato il campionato vinto, l'Aquila che è tornata in serie C era la stagione 97-98 se non ricordo male, Sanderra, tra un po' l'analizzeremo ma andiamo proprio in ordine cronologico perché vedo pronto, prontissimo, Giustino Parisse, il collega del centro. L'Aquila stagione 34-35, adesso perdonatemi se le date sono sbagliate, iniziò per la prima volta nella sua storia il campionato di serie B. Alla terza stagione nel 1936 ci fu l'incidente ad ottobre di Contigliano con la squadra che doveva andare a giocare in trasferta a Verona, il tecnico Buratti perse la vita, se non ricordo male Marino Bon, uno dei giocatori più importanti, era dato per morto, poi alla fine invece si salvò e affido a Giustino Parisse il racconto di quegli anni. Sì, l'incidente di Contigliano parliamo di sabato 3 ottobre del 1936, quello fu un incidente che condizionò non solo il futuro del calcio all'Aquila ma secondo me anche influì parecchio sulla storia della città. In quel momento storico la città stava vivendo un momento di crescita perché nel 1933 era stato inaugurato lo stadio Fattori con tutti gli impianti sportivi che ancora oggi ci sono, l'anno dopo fu inaugurata la funivia, si stava progettando l'aeroporto, la squadra in serie B era un vanto della città. Quel giorno purtroppo tutto finì perché la squadra, come hai ricordato tu, doveva andare a Verona, era la quarta giornata di quel campionato di serie B, il campionato non era iniziato benissimo, c'era stata una vittoria la prima giornata, poi due sconfitte, quindi la squadra andò a Verona diciamo anche con un po' di tensione, con la necessità di fare punti. Chiaramente Giustino ti interrompo un attimo, allora le foto non erano della qualità di adesso ma in questo piccolo fotogramma vi mostriamo proprio quello che fu lo scontro del treno a Contigliano. Praticamente i giocatori dell'Aquila Calcio partirono in 13, c'era l'allenatore Buratti, due dirigenti e il massaggiatore. L'abbiamo ingrandita con Donatello Ricci. E qui lo vedete insomma quello che è successo, in pratica i giocatori, l'Aquila Calcio partì dalla stazione dell'Aquila intorno alle 8 del mattino, il treno arrivava da Sulmona perché la linea era Sulmona-Terni, arrivati all'altezza di Contigliano, Contigliano è un piccolo paese, oggi c'era 3.000 abitanti vicino Rieti, molto probabilmente per un errore del capostazione di Rieti, non fu data la precedenza alla Littorina, come si chiamava allora, a Dio Rivera si è chiamata fino a poco tempo fa, e ci fu questo incidente perché dall'altra parte arrivò un autofurgone postale, un treno postale, nella Littorina c'erano 85 persone, fra cui i giocatori dell'Aquila Calcio. Le storie più recenti ci dicono che ci furono 15 morti, fra cui appunto Attilio Buratti. Ha ricordato di Marino Bonne che era stato dato per morto perché venne, e poi per fortuna invece si riprese. E ci furono 69 feriti, fra questi 69 feriti la gran parte dei giocatori dell'Aquila Calcio, che sostanzialmente poi non riuscirono, molti non riuscirono più a tornare in campo, e da lì la grande crisi. Che cosa successe immediatamente dopo? Diciamo la federazione di allora, le autorità sportive di allora, chiesero all'Aquila Calcio se erano disponibili a, come dire, ad accettare una non retrocessione, a non giocare più, ma non retrocedere. Diciamo l'orgoglio aquilano, anche in quel caso, ebbe ragione, e invece la squadra volle continuare a giocare. Naturalmente riaprirono il mercato, ci furono degli acquisti, eccetera, eccetera. Però, purtroppo, un po' lo shock della tragedia, un po', chiaramente, molti giocatori che non erano più in grado di poter scendere in campo, e quindi la squadra retrocesse, e da lì l'Aquila Calcio non è più tornata, che era stata la prima squadra abruzzese in Serie B, purtroppo non è più tornata a quei livelli. Io intanto toglie benvenuto a Pietro Ferzoco, io non so se chiamarla Pietro, mister ex giocatore. Pietro va benissimo. Pietro va benissimo, è stato quanti anni con la maglia rosso-blu dell'Aquila? Nove. Nove anni, tra l'altro racconteremo quella partita di Cassino, che purtroppo ha lasciato dei tristi ricordi, parleremo di tante cose belle sul campo. Con Pietro Ferzoco, a cui do il benvenuto, chiedendogli in trenta secondi se mi racconta la sua storia nell'Aquila Calcio. Io sono arrivato qui all'Aquila, dal Rayano, nel 1976, e ci sono rimasto fino al 1985. Quindi, negli anni ho vissuto la fase di Gildino De Felice, quella in cui l'Aquila Calcio scherzosamente veniva definita come una PMI, Prestiti Militari Studenti. Era una squadra veramente molto giovane. I 6, 7 undicesimi avevano intorno ai vent'anni. Io qui riconosco Pietro Ferzoco. Questa dovrebbe essere la partita col Perugia, mi sembra quella. Esatto. E poi c'è stato un cambiamento in società, un cambiamento che ha portato dentro degli operatori economici l'organizzazione della società per provare a vincere il campionato, cosa che riuscimmo a fare nella stagione 78-79. E poi si è andato avanti tra alterne vicende e quel gruppo unitario di imprenditori che erano riusciti a mettersi insieme per cercare di portare avanti un discorso importante. di fatto non durò più di tanto e quindi tra alterne fortune si è andato avanti per tanti anni, sempre così. Vediamo se Ferzoco ci dà una mano a riconoscere tutti i giocatori in questa foto. Io Ferzoco lo vedo a fianco a Valdo Cherubini. Sì, cominciando dalla mia sinistra, il Peppe Pacini, poi scusi, ho qualche problema anche di vista se andiamo ai giocatori. L'allenatore Collesi, se non sbaglio. L'allenatore Collesi, sì. Cominciamo la stagione con Petrelli, poi ci fu un avvicendamento, per qualche giornata avemmo anche la collaborazione del compianto Bernardi e poi ecco c'è stato, diciamo, la squadra è passata al signor Collesi che fino a quel momento aveva svolto la mansione di direttore sportivo, fino alla fine del campionato. Che anni erano quelli, Giampaolo? Beh, credo l'anno in cui l'Aquila... Ma questo è l'anno dello spareggio di Cassino. Sì, mi ritello, insomma, riconosco. Quanti erano belli, sportivamente parlando, poi è diventata tragedia purtroppo. Erano anni esaltanti, io ricordo le radiocronache fatte da Cassino quando seguivamo con Radio l'Aquila, che era l'unica vera voce che usciva da questa città radiofonicamente parlando e all'epoca, appunto, con Stefano Vespa, con Andrea Fusco, che poi si è salito alla RAI, a lavorare in RAI, seguivamo questa squadra. Io ricordo benissimo quella trasferta, patita, tutto quello che accadde purtroppo sul mondo. Tra un po' ne parleremo, Giampaolo, di quella partita. Io poi volevo raccontare questo aneddoto, perché Giustino Parisi ha parlato fino agli anni della Serie B, quindi la tragedia di Contigliano. L'Aquila poi retrocesse, non ce la fece, ma partecipò per anni alla Coppa Italia. E ci fu, abbiamo preparato anche una foto, Donatello, la partita contro la Juventus, uno dei punti più alti della storia dell'Aquila, la partita dell'Aquila contro la Juventus. Abbiamo una foto storica che abbiamo preparato, che rappresenta proprio la squadra. Eccola qui, l'Aquila Calcio, che va a sfidare a Torino la Juventus. Questo è uno dei punti più alti, almeno dal punto di vista storico, della nostra squadra. Abbiamo detto poi, non entreremo nel dettaglio, nell'analizzare tutti gli anni che ci hanno portato fino al 70, tra un po' torneremo con Pietro Ferzoco. Volevo però prima, un attimo da Luca Sanderra, fare un salto negli anni 90 per raccontare quella che è stata una cavalcata storica. Dopo la vedremo nei dettagli, ma così, per raccontarla, che emozione è stata Sanderra? È stata una grande emozione, perché poi non partivamo con i favori del pronostico, perché il Presidente, che mi fa piacere citare, Gabriele Valentini, aveva profuso molte energie a livello economico negli anni precedenti e quindi noi siamo partiti un po' a fari spenti. Un gruppo di giocatori, principalmente del Sud, un gruppo di ragazzi che portammo noi personalmente, perché ci vincemmo lo scudetto Juniores in quel di Celano contro l'Arenato Curi. E quindi furono quelle alchimie, quelle cose misteriose. Si creò una grande alchimia di squadra che fece veramente molto bene. Non eravamo i favoriti, perché i favoriti erano Rieti, che aveva speso molto a livello economico. C'era la San Benedettese e c'erano altri compaggini che comunque erano più accreditati di noi. Però noi piano piano, con tanta umiltà, tanto sacrificio, tanta unità d'intenti, facemmo subito bene, sin dalle amichevoli estive. Si vedeva che comunque c'era un bel gruppo. E quindi fu una bellissima cavalcata che arrivò in quel di Pineto, che era l'ultima giornata. e arrivamo con un punto di vantaggio sul Rieti. E quindi trionfammo e andammo in cifra. Fu una grandissima soddisfazione, anche perché noi eravamo le prime esperienze da allenatori. Quindi fu un bel biglietto da visita. Tra l'altro quella partita a Pineto, con tantissimi tifosi al seguito dell'Aquila. Una cosa incredibile. Una cosa incredibile. Giampaolo, con il Rieti, che proprio nella penultima giornata, vi dette il via libera. Ma non si riusciva a vedere la partita. Forse l'allenatore mistero la vide la partita. Ma noi che stavamo sugli spatti erano talmente tanto risicati, stretti. Per quanti eravamo partiti dall'Aquila per andare a vedere quella partita, che fu veramente complicato vederla. Però fu veramente... Mi ricordo che stavano venendo giù le reti. Per l'entusiasmo, per i due gol che vennero realizzati in quella partita, che ci permisero poi di vincere e di vincere il campionato. Tante soddisfazioni, ma tanta amarezza pure, Enrico, per l'Aquila Calcio. Proprio tanto cuore ci vuole intorno a questa squadra, a questa società. Tanto cuore intorno a questa squadra. Eccole le immagini. Abbiamo ritrovate le immagini della promozione in serie C2. L'arbitro era una grande firma, perché era Rizzoli di Bologna. Ah sì. Sì, esatto. Sì. Rizzoli di Bologna, Onesti, Marco Onesti, in porta. Sì, Pacioni. Vai, raccontiamole un po' queste immagini, via. È un po' fuori scaletta, ma le può raccontare Luca Sanderra. Praticamente sì. Era l'ultima partita. Dovevamo comunque vincere per forza contro un Pinedo che, se non sbaglio, era già retrocesso. Ecco quello che era la panchina nostra. Comunque, diciamo che una volta sbloccata la partita con Gianni Boccia, se non vado errato, poi andammo tutto in discesa. Insomma, ci ricordiamo il grande entusiasmo della gente dell'Aquila, che in base veramente Pineto ci diede un grandissimo sostegno. Sono delle emozioni, insomma, che anche a distanza di 25 anni, insomma, vengono i brividi, perché comunque era un gruppo di ragazzi meraviglioso. Poi ne riparleremo Sanderra. Io torno agli anni 70 con Pietro Ferzoco, perché ora vi proponiamo un saluto che ci manda da lontano, da lontanissimo, un giocatore che abbiamo citato poco fa e che sicuramente si ricorda Pietro Ferzoco e si ricordano tutti i nostri ospiti studio. È stato capitano per tantissimi anni, Valdo Cherubini, della storia dell'Aquila Calcio, uno dei giocatori più importanti. Vediamo se ancora non è pronto, mi dice Donatello. Allora chiedo a Pietro Ferzoco di raccontarci un po' Valdo Cherubini. Beh, lui è stato il capitano storico per tanti anni. Credo che sia uno dei giocatori che abbia la militanza più lunga qui nella storia dell'Aquila. E quindi così ha attraversato un po' tutte le varie fasi, da quelle iniziali delle difficoltà societarie a quelle poi di una fase più organizzata. Quindi sicuramente un giocatore di livello che ha dato tanto all'Aquila. Lo vogliamo ascoltare allora. Lui è lontano, è fuori Italia, Valdo Cherubini, ma ci teneva a mandare il suo saluto. Prego Donatello Ricci. Buonasera a tutti, sono Valdo Cherubini. Grazie a Enrico Giangardi che mi ha permesso, anche stando lontanissimo, per parlare e fare il mio saluto a tutti. Sì, calcolando che ho, diciamo, circa 30 anni, sono stato 13 anni calciatore per gli restanti 15, allenatore, presidente del settore giovanile. Ho ricoperto un po' tutte le cariche che una società può dare. Poi sono dito che avevo 16 anni nel campionato semiprofessionistico perché l'allora Serie D era un campionato semiprofessionistico e fino a 32 anni come calciatore e poi come responsabile, presidente, allenatore di tutte le varie categorie dell'Aquila Calcio. Diciamo che per tutti questi anni questa maglia è stata la mia seconda pelle. auguro a questa società, alla squadra, a tutta la tifoseria, di poter ripercorrere e riandare in categorie, diciamo, che più sono consone a questa città. E grazie a Valdo Cherubini. Chi ci vuole raccontare, Valdo Cherubini? Vuoi fare tu, Gianpaolo? Valdo Cherubini è stato una colonna dell'Aquila Calcio. Tutti lo ricordiamo come un grande giocatore, un grande centrocampista. Era veramente l'Aquila. Sebbene lui non fosse aquilano, però rappresentava l'Aquila nel suo DNA proprio più autentico. E tutti sono rimasti legati, anch'io mantengo amicizia con Valdo, perché Valdo è stata l'Aquila Calcio per tanto tempo. Come ha ricordato prima Pietro Ferzoco, era l'Aquila di Gildino De Felice, era l'Aquila del pane e mortadella e di un bicchiere di tè. Molto si emulavano l'Aquila Calcio e l'Aquila Regbi all'epoca, perché tutte e due vivevano di queste dimensioni. L'Aquila Regbi vinceva gli scudetti, l'Aquila Calcio cercava di salvare la Serie C e non è che ci riuscisse spesso. Peccato che il nostro trascorso non è un trascorso ricco di... tu hai citato l'incontro della Juventus, io invece ricordo la partita di Coppa Italia più recente col Bologna, dove l'Aquila andò a vincere al Dall'Ara e quella francamente è una delle cose che ti inorgoglisce di più. Tanto è vero che poi con molta spavalderia gioco contro l'Empoli, se ricordo bene, e perse. L'Empoli di Sarri. Esatto, qualcuno era pure convinto che anche con l'Empoli l'Aquila in quell'occasione potesse vincere. Vabbè, sono le ambiziosi di una squadra di provincia che però deve avere un'ambizione a calcare i campi, diciamo, più importanti, quelli che spettano la città a capoluogo di Regione. E la verità è che piacerebbe ricordare più le grandi partite, i grandi incontri, le finali, la finale del Flaminio a Roma con la Torres, quando veramente si mosse una tifoseria che rimasero... cioè il Flaminio era invaso dagli Aquilani, erano tutti Aquilani, che neanche quando ci fu la finale, parlo di rugby, con le fiamme oro sempre a Roma, ci fu tutta quella gente. Insomma, ci fu veramente una mobilitazione perché l'Aquila e gli Aquilani volevano questa squadra che salisse di categoria. E quelli sarebbero stati e sarebbero, secondo me, Enrico, i ricordi più belli. Io do il benvenuto a Davide Di Nicola, uno degli attaccanti più prolifici della storia dell'Aquila Calcio. Ci ha fatto sognare la Serie B in quella stagione con il Presidente Passarelli. Buonasera Davide, grazie per aver accettato il nostro invito. Chiaramente anche a te ti chiedo di raccontarci la tua storia con la maglia dell'Aquila Calcio. È stata un'annata, diciamo, esaltante sia dal punto di vista personale. Tra l'altro prima abbiamo visto, prima che arrivassi, un tuo gol in maglia rosso-blu, abbiamo visto di quella stagione. Ah, ok. Sì, sono stati, diciamo, 20 gol, che è un'annata bellissima a livello personale e anche a livello, diciamo, di squadra. Almeno per la metà dell'anno, perché poi, come sappiamo, ci sono stati dei problemi societari nella seconda parte del campionato, che però ci hanno permesso lo stesso di fare una bellissima stagione, che io ricordo sempre veramente positivamente, sia per aver conosciuto un pubblico eccezionale, una città che veramente mi ha accolto benissimo, nonostante il campanilismo iniziale che mi dicevano non andare perché tu sei uno di Avezzano, quindi sicuramente avrai dei problemi di ambientamento e invece è stato perfettamente il contrario, perché ho tantissimi amici qui all'Aquila che ancora mi iscrivono e ieri è stata la testimonianza di un affetto mai visto prima. Posso dire una cosa? Puoi tutto. Credo che Davide Nicola sia stato il più forte, non più piaggeria, il più forte attaccante che ha avuto l'Aquila Calcio. Non c'è stato un attaccante forte come Ferzò che è stato tra i migliori difensori, assolutamente. Ma noi gli ospiti li scegliamo bene. Ma Davide Nicola credo che sia rimasto nel cuore che è quello che manca adesso, Presidente, manca una punta come Davide Nicola, facciamogli rimettere la maglietta e gli scarpini perché questo sicuramente te li fa dieci gol. Anche adesso sono sicurissimo, è stato un attaccante di una qualità, caro mister, veramente di livello superiore. Lui ci voleva portare in Serie B, diciamo la verità Davide, ce l'ha messa tutta. Io ce l'ho messa tutta anche con i miei compagni di squadra, però poi le vicende societarie insomma le conosciamo tutti. È stato veramente un peccato perché alla fine del giorno d'andata eravamo primi. Avevamo vinto anche con il Palermo, quindi avevamo dato una dimostrazione di forza molto importante. Poi la storia è andata al contrario e quindi abbiamo dovuto addirittura faticare alla fine per quantomeno ottenere una salvezza e per evitare il peggio. Poi l'anno dopo sono andato a Rimini, nonostante la mia volontà di non voler andare, però era a quanto pare l'unica possibilità. Tanto chiedo a Donatello di farci vedere un po' di immagini della tifoseria rosso-blu di quegli anni perché era davvero emozionante vedere lo stadio Fattori. Io ricordo la partita contro il Palermo che decise un colpo di testa di grossi sul calcio d'angolo. 13.000 se lo sbaglio. Tra un po' torno con Davide Di Nicola e con i nostri ospiti per analizzare le loro annate. Io rifaccio un passo indietro e arrivado agli anni 70 con Pietro Ferzoco per introdurre con Giustino Parisse quella che poi è stata la partita di Cassino. Se ce la può ricordare dal punto di vista strettamente sportivo perché poi la tragedia la affidiamo al ricordo di Giustino Parisse. Siamo arrivati a quello spareggio dopo che pensavamo di poter risolvere prima il campionato al nostro vantaggio. Ci fu questo spareggio e noi cercammo di prepararlo nel modo migliore ma eravamo convinti di potercela fare. Quindi siamo stati qualche giorno lì in ritiro a Cassino per preparare la partita ma in un ambiente sereno e convinto che aspettavamo quella partita proprio per poter raggiungere quello che era stato il nostro obiettivo dall'inizio dell'anno. La mattina prima di quando eravamo ancora in albergo arrivò la notizia di questo incidente che inizialmente arrivò con toni un po' così soft cioè ci raccontarono che c'era stato un incidente ma non assolutamente senza parlare della gravità di quello che era. Noi abbiamo preparato la foto, proprio l'immagine di un ricordo che è stato fatto all'Aquila con una via dedicata proprio per quella giornata. Eccola qui, via 3 giugno 1979 con il ricordo di Paolo Centi, Maurizio Climastone, Carlo Dionisi e Carlo Risdonne. Enrico se posso fare un intervento perché ieri c'è stato un momento della manifestazione quando abbiamo premiato le vecchie glorie con una targa ricordo perché devo dire che è stato un bel momento insomma e tutte queste persone sono venute alla prima chiamata insomma anche da lontano e c'è stato Serafini che ha fatto un ricordo di questi quattro ragazzi e devo dire che ho visto le lacrime agli occhi insomma quasi tutta la platea e è stato un momento veramente emozionante. Enrico fu una domenica bestiale tra virgolette. Ripetiamo l'immagine Donatello. Perché eravamo tutti convinti di farcela, partimmo in tanti dall'Aquila poi sai per arrivare a Cassino ci fu chi fece via Sulmona e chi passò invece dal Valle dell'Iri quindi fece Sora, Cassino. L'incidente ci fu a Sulmona? Ci fu a Sulmona certo tra l'altro molti fecero quella strada io ricordo cioè quella di Sulmona poi scendendo attraverso Castel di Sangro insomma per arrivare che fu che non è la strada migliore secondo me ma fecero quella strada perché con Sora c'erano stati dei problemi la partita le due partite che ci furono ci furono dei tafferugli con i tifosi del Sora. Tant'è vero che quando risalimmo, ritornammo io per esempio con una carovana di macchine che si era un po' attardata per i festeggiamenti anche se con il cuore spezzato finimmo in mezzo a una campagna perché ci evitarono di entrare attraverso Sora perché ci furono degli scontri dentro Sora in quanto i tifosi del Sora non gli andava bene non erano affatto contenti che l'Aquila avesse vinto quello spareggio. Quindi questa idea di passare a Sulmona fu anche un'idea se vogliamo legata ai rapporti tra le tifoserie al voler dimostrare che l'Aquila stava salendo perché eravamo convinti assolutamente che ce l'avremmo fatta. La squadra era forte, c'erano dei giocatori che con caparbietà avevano dimostrato di volercela fare e poi ricordo benissimo che mi pare che fosse con Lavigliano, non sbaglio alla finale? Con Lavigliano non era questa squadra, questo squadrone che ci intimoriva voi eravate sicuramente più forti in campo, poi c'era un certo Militello che era un gran giocatore era veramente l'uomo che poi risolse la partita perché fece due gol e purtroppo accadde anche perché tra le tifoserie non correva buon sangue non con Lavigliano ovviamente ma con le tifoserie che si incontrava un po' perché il Sulmona stava nel girone nostro, un po' soprattutto per il fatto che Sora era complicata qua il Ministero lo sa bene, in Giociaria mi dicono che pure Frosinone ha problemi con Sora, con Cassino Frosinone e Sora c'è una grandissima rivalità c'è una grandissima rivalità e questo certe volte non spiega o perlomeno può dare una spiegazione perché accadono certi antefatti o certi avvenimenti però è rimasta nel cuore, è rimasta nel cuore soprattutto l'amarezza e il dolore del giorno successivo io ricordo che fu fatta una raccolta anche di denaro per aiutare le famiglie di questi ragazzi e mi ricordo che c'era una bandiera molto lunga, grande sotto i portici all'altezza di Piazza Duomo dove i tifosi stavano raccogliendo, stavano facendo una raccolta di denaro per aiutare, per stare vicino, per manifestare la dovuta attenzione da parte di tutta la città, di tutta la tifoseria Allora, Giustino Paris è pronto con il ricordo di quella giornata poi ci andiamo ad ascoltare alcuni contributi che ha fatto Daniela Rosone con Cerasani, Militello, Oddi, che sicuramente si ricorderà bene Pietro Ferzoco Giustino Paris Sì, siamo al 3 giugno del 1979, erano domenica e c'era questo spareggio in campo neutro a Cassino contro l'Avigliano che era stata un po' la squadra a sorpresa di quel campionato e come ha ricordato anche Giambalo, in quello stesso girone c'era il Sulmona e poche settimane prima c'era stato il derby che era finito in parità però c'era una grossa rivalità, dall'Aquila quella mattina partono 16 pullman ed è facile fare il conto, 16 pullman, 50 persone a pullman, stiamo parlando di quasi 8.000 persone infatti poi le cronache ci raccontano più di 7.000 persone nel campo di Cassino appunto non tutti fecero la stessa strada, alcuni pullman passarono per Sulmona e da come ci raccontano le cronache, Sulmona, da una parte come ha detto Giambalo c'era Sora che era problematica attraversarla perché si rischiavano le sassate diciamo fondamentalmente andare a Sulmona significava come dire anche qualche sberleffo nei confronti dei tifosi di Sulmona rispetto appunto a un campionato che era stato molto tirato e a un certo punto uno di questi pullman, naturalmente molti erano fuori dai finestrini con la testa, anche con una parte del corpo fuori dai finestrini probabilmente per farsi vedere da chi stava parliamo dell'acquedotto di Piazza Garibaldi chi vive a Sulmona lo sa bene, Piazza Garibaldi e quel punto lì in particolare la domenica mattina è pieno di gente questo pullman gira all'interno di questo arco dell'acquedotto purtroppo i quattro ragazzi che erano fuori dal finestrino non dico nemmeno quello che è successo perché ve lo potete immaginare e la cosa che colpì poi moltissimo è che qui si parlava di ragazzi giovanissimi il più adulto diciamo per modo di dire Maurizio Clemastone c'era 18 anni ma il resto erano tutti ragazzi 15 anni naturalmente la notizia arrivò anche a Cassino come ha rivelato il gioco arrivò diciamo ai giocatori un po' più soft però insomma molti seppero e quindi quella fu una vittoria anzi sempre le cronache ci raccontano che all'inizio i stessi giocatori insomma la partita ingranarono piano piano tanto è vero che poi ci fu un gol un po' sulla fine del primo tempo adesso non ricordo esattamente ma insomma questo è quello che ci raccontano le cronache naturalmente quella fu una vittoria con una grande grande amarezza poi nei giorni successivi già l'ho ricordato Gian Paolo ma poi ci furono i funerali che furono veramente una cosa enorme partecipò tutta la tutta la città a ricordo di questo avvenimento c'è una targa anche a Sulmona abbiamo visto la targa questa è una targa stradale che sta credo nella zona di Sant'Elia e poi anche allo stadio Fattori c'è un cipo e una targa che ricorda questi quattro ragazzi e questa tragedia che purtroppo molti all'epoca la riandarono proprio con la mente che conosceva naturalmente la storia dell'Aquila Calcio a quel sempre 3 ottobre però del 36 con l'incidente di Contigliano di cui abbiamo parlato questo è il racconto di Giustino Parizze che ringrazio davvero preciso puntuale ed emozionante soprattutto quando ha parlato di questo pullman che è arrivato a Sulmona e poi è successo quello che è successo Ferzocco voi come l'avete vissuta in campo questa situazione? Noi quando poi prima di scendere in campo sapemmo la verità di quello che era successo sentimmo una ulteriore responsabilità addosso perché c'era il desiderio quantomeno di onorare la memoria di questi ragazzi che avevano perso la vita proprio per venire a vedere la partita e forse più di qualcuno di noi si chiese che magari con qualche risultato nelle partite precedenti diverse pareggiamo l'ultima partita forse avremmo potuto evitare quella partita e quindi quello che era successo lì a Sulmona però poi il campo è quello che alla fine dice l'ultima parola noi dovevamo giocare cercammo di farlo al massimo delle nostre possibilità la partita raccontacela una partita che ecco come ricordava Giustino all'inizio insomma con una certa attenzione e quindi la squadra dell'Avigliano poi era anche una squadra sorpresa che a sorpresa aveva raggiunto questo spareggio anche con merito aveva dei valori quindi inizialmente fu una partita un po' tesa, combattuta come spesso lo sono gli spareggi poi una volta passati un vantaggio riuscimmo a gestire con una certa padronanza la partita fino al 2-0 finale brevemente Ferzoco fino agli anni 84 l'hai giocato con la maglia dell'Aquila fino all'85 85 e che anni sono stati quelli successivi se non ricordo male con Guido Attardi in panchina Guido Attardi c'è stato nel 1977 negli anni precedenti l'anno era precedente negli anni precedenti beh, furono tre anni in cui facemmo la Serie C il primo anno a buoni livelli anche noi alla fine del Girona d'Andata eravamo terzi vincemmo il derby in gas con Giulianova ed eravamo terzi in classifica per poi assestarci su un onorevole centro classifica poi nelle annate successive ecco, man mano ci furono cambiamenti in società con delle difficoltà l'anno successivo fu una una stagione di rinnovamento all'inizio con una salvezza comunque raggiunta con una certa tranquillità e poi ci fu il terzo anno della retrocessione nel Girone Veneto arriviamo a giocare fino a Pordenone con insomma con dei problemi societari come come spesso succede in queste situazioni nell'anno successivo invece all'inizio ci fu un grande entusiasmo perché fu l'anno degli americani no? sì ci così ci ritrovammo all'inizio della stagione con tanti ragazzi che vennero a giocare da noi dagli Stati Uniti ed era un po' un'incognita una novità in senso assoluta ma perché mi sono sbagliato Perzoco perché negli anni 80 voi eravate allenati da un giovanissimo Carlo Florimbi e giocaste contro Guido Attardi che era la guida della Rodigiana noi arrivamo secondi e loro vinsero il camionato proprio in quest'anno di cui stavo mi ricordavo Guido Attardi ma era sulla panchina della Rodigiana e poi vado avanti con gli anni vado avanti perché mi sono appuntato un po' di cose ci fu l'altra stagione quella con Nazareno Cerusico in panchina quella con Aldanzuini e con un attaccante non forte come Di Nicola ma come Anikic che strappò i complimenti dell'allora allenatore della Roma Sven Goran Eriksson perché era un giocatore davvero molto molto forte l'Aquila però non riuscì a vincere il campionato lì c'era un po' l'ossessione anche dell'ostiamare che poi arrivò avanti si ricorda Gian Paolo come no era un'ossessione vera l'ostiamare l'ostiamare avevamo sempre problemi con l'ostiamare e poi arrivò l'anno di Antonio Circi gli anni di Antonio Circi con il ritorno del grande pubblico allo stadio l'anno di Cicchitti e di Marco Santi ma prima di arrivare a quell'annata eravamo debitori di alcune interviste che vi avevamo annunciato proprio per chiudere le annate di Pietro Ferzoco abbiamo detto che c'era Cerasani Angelo Cerasani Io Lupe esatto l'attaccante Militello il portiere Oddi ce li ha pronti Donatello Ricci li ha intervistati per noi Daniela Rosone al giorno del compleanno cominciamo con Cerasani arriva ci giocatori degli anni settantanove anni Cerasani e Militello ricordi importanti legati al cuore oggi si celebrano i 95 anni di storia dell'Aquila calcio quali sono i ricordi più belli legati a questa città? Bellissimi guarda io ci ho fatto una vita dal 70 che 70-71 il primo campionato ma c'è il cuore all'Aquila è il cuore per questa città dopo l'anno che lei stava ricordando era l'anno dello spareggio a Cassino dove giocava una bella partita e Militello fece due gol e abbiamo una soddisfazione enorme l'unico problema fu la tragedia dei ragazzi che è morti a Sulmona e lì c'è un agrodolce diciamo dai però purtroppo è capitale fa parte della vita insomma un ricordo brutto quello dell'incidente insomma a Sulmona i suoi due gol però nello spareggio a Cassino insomma questa città si ama rimane nel cuore 95 anni di storia che si festeggiano oggi e voi siete stati la storia dell'Aquila Calcio sì devo dire che io ho giocato qui quattro stagioni ma l'anno 78-79 è indelebile non solo per la promozione ma per tutta la stagione per come si è svolta perché a un certo momento dell'anno eravamo in netto ritardo e poi riuscimmo a recuperare ed arrivare allo spareggio che diceva Angelo prima che purtroppo è stato bello e tragico nello stesso momento quindi viene ricordato soprattutto per quei ragazzi che ci hanno lasciato la vita e che credo che ci abbiano dato una spinta in più quel giorno per vincere la partita e queste interviste di Daniela Rossone ne abbiamo un altro contributo da Donatello dammi l'ok quando è pronto Oddi il portiere di quelle annate appena l'ok di Donatello Ricci ve lo mostriamo e poi andremo agli anni di Antonio Circi Giampaolo anni 90 91 92 con il Flaminio una volta bel protagonista in positivo una volta in negativo e gli spareggi con il Gualdatatino mi dà l'ok Donatello è pronto Oddi Cesiglio Oddi quante mitiche parate all'Aquila che effetto fa oggi essere qui per questa festa bellissima dei 95 anni ma è un effetto un po' particolare anche di nostalgia perché sono passati tanti anni io ero un ragazzo e ritrovarmi adesso oggi in questa splendida festa in questa città che amo anche perché sono abruzzese anch'io quindi è un'emozione insomma non facile da mandare giù anche per via dell'età capito vorrei tornare qua all'età che avevo che avevo allora ci si emoziona di più eh sicuramente sì cioè io spero solo ecco chiaramente noi stavamo nell'altro stadio sono arrivato ieri ho visto questo qui ho detto questo non può fare l'eccellenza capito cioè nel senso quindi speriamo presto che se ritorni a vedere una partita un po' più importante anche che va bene anche questa tanto l'importante è vincere capito però è un'emozione bella grazie Daniele Rosone che ci ha fatto riascoltare le voci dei compagni di Pietro Ferzoco è sempre con un volto non sorridente Ferzoco gli abbiamo strappato un sorriso quando hai visto i suoi vecchi compagni eh? beh sono sicuramente dei ricordi bellissimi andiamo allora Giampaolo intanto io osservo una cosa i migliori attaccanti sono tutti i marzicani quelli che hanno giocato con l'acqua di Nicola agli lupe o il lupo tra un po' ne abbiamo di col da raccontare di capire di Nicola tra un po' arriviamo Cesidio Oddi ecco visto che stiamo citando alcuni tra i migliori in assoluto ecco Cesidio Oddi credo che sia stato il miglior portiere che abbiamo mai avuto all'Aquila ce ne sono stati di molto bravi però Oddi era veramente forte anche il compagno di Davide di Nicola non era male Paoletti scuola Torino anche Paoletti poi Paoletti venne preso in Serie A addirittura ci fu pure quella vicenda di quanti milioni costò quell'operazione nel Dalfif un'operazione un po' particolare allora anni 90 Giampaolo dammi una mano tu qui anni 90 Barberio se vuoi intervenire quando vuoi però poi ci devi dire un po' come riporterà l'Aquila a proposito degli anni 90 così anticipo non voglio fare quello che racconta solo le tragedie però negli anni 90 ci fu un'altra tragedia che interessò appunto l'Aquila Calcio perché morì in una trasferta mentre che andava a Ponte d'Era a Nicola a Nicola ci arriviamo tra un po' perché lì era il 94 sì forse la stagione 94 la stagione del Ponte d'Era arriviamoci in Serie C e raccontiamo come Giampaolo L'Aquila è arrivato in Serie C arrivò in Serie C intanto con Antonio Circi presidente era un po' insomma era un presidente un po' particolare così una persona molto singolare nel modo di essere che però rimase diciamo era accattivante nei confronti della tifoseria e nei confronti di tutti gli sportivi che frequentavano il fattore e che vedevano in questo romano la possibilità perché nei confronti dei romani c'è stata sempre molto diffidenza da parte degli aquilani anche nei confronti dei giocatori perché si è sempre detto è il giocatore romano non è il giocatore all'altezza erano tutte dicerie è un giocatore difficile un giocatore abituato alla capitale e questo presidente a un certo punto invece riuscì a entrare nel cuore degli aquilani perché era ambizioso perché giustamente voleva portare questa squadra è sempre più in alto però pure lì pure all'epoca ci furono delle vicissitudini diciamo che non furono tra le più belle tra le migliori qui dovremmo dovremmo riportare avere tra noi Dante Capaldi che voglio salutare che è un carissimo amico un collega giornalista il veterano vero di tutti i giornalisti aquilani e che ha dei ricordi indelebili su quello che accadde così come ecco stiamo vedendo i giocatori dell'epoca quello che riuscirono a combinare quello che riuscirono a ottenere i risultati le vittorie i gol i gol veramente di bella fattura sinceramente questo ci faceva sperare di avere questa squadra che tornasse ai livelli che meritava e non era facile e non lo diciamo sempre caro presidente Barberio lo continueremo a dire noi vorremmo veramente tornare a calcare i campi che ci più ci diciamo sono consoli gli avversari dell'Aquila Gualdo Tadino ma sì Gualdo Tadino ma insomma noi ricordiamo le partite con il Palermo con il Messina con squadroni a parte il Pisa lo spareggio con il Pisa ma poi in Serie C insomma ci sono stati grandi squadre allora raccontiamo le veloci quelle annate la prima annata con Leo Acori in panchina l'Aquila arrivò a pari punti con la Cilia ci fu lo spareggio al Flaminio vinto 2-0 ai supplementari gol di Naso e D'Agostino e poi la trasferta di Gualdo Tadino andò male a Gualdo 2-0 al ritorno una punizione che passò sotto la barriera subito 1-0 per il Gualdo fino a 1-1 davanti a 13.000 spettatori che delusione ci aspettavamo di farcela quella domenica ci aspettavamo veramente di tutti quanti di festeggiare questa vittoria perché ce la sentivamo a Gualdo ricordo che ci furono dei grossi problemi anche per quanto riguardava la presenza degli tifosi ricordo benissimo che le televisioni aquilane non riuscivano neanche a trasmettere per la prima volta una televisione aquilana tramite Telespazio riuscì a fare all'ultimo momento la telecronaca della partita che poi arrivava e non arrivava si vedeva e non si vedeva ci furono grossi problemi perché questi sono i tifosi del Gualdo allo stadio Fattori sì sì vennero ovviamente anche i tifosi del Gualdo però eravamo talmente tanti come tifosi dell'Aquila insomma era gremitissimo eccola la partita sì beh questo è Talassi se non sbaglio no 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 era Sergio Spuri il portiere dell'Aquila chiaro scusa beh vabbè la capigliatura mi ha Sergio Spuri il portiere dell'Aquila sì perché ci sono stati voglio dire ecco lo stadio si vede ma era il periodo in cui insomma lo stadio si riusciva ancora a gestire era stato fatto quello spicchio a sinistra dei distinti che riusciva a contenere diciamo i tifosi delle squadre ecco il gol questa è la punizione che ha subito guardate che pubblico lì dietro è impressionante guardate che pubblico la punizione dopo pochi minuti che è passata sotto le gambe della barriera e subito il Gualdo che aveva vinto 2 a 0 all'andata segnò subito il gol del 1 a 0 io arrivo un rumore che mi rimane in testa indelebile che fu il palo di Maniero a Gualdo sullo 0 a 0 se tu ricordi quello fu veramente un segnale del destino l'Aquila giocò con le maglie gialle a Gualdo perfetto le maglie che non si capiscono se torna un po' indietro con quel filmato è presente anche nella comunicazione in diretta si vede il gol che subì l'Aquila a Gualdo nella partita di andata ma forse è meglio che ce la risparmiamo ai tifosi dell'Aquila le sofferenze basta le sofferenze basta allora Donatello sei pronto con Massimiliano Marco Santi il contributo basta con le sofferenze Donatello Massimiliano Marco Santi il contributo che ci ha preparato ieri Daniela Rosone Marco Santi insieme con lo storico capitano Marco Cicchitti che doveva essere con noi ma per alcuni problemi di famiglia non è potuto venire vi manda tanti saluti vi proponiamo l'intervista a Massimiliano Marco Santi che con Cicchitti formava la coppia dei difensori centrali di quell'annata vediamo se mi dà l'ok Donatello per Massimiliano Marco Santi e ce lo andiamo ad ascoltare Marco Santi Massimiliano Marco Santi è tornato spesso in questi anni perché lui è rimasto legatissimo ex difensore dell'Aquila Calcio a questa città che effetto fa oggi per i 95 anni aver rincontrato tanti amici insomma gli Aquilani vi ricordano la mitica grotta di Aligi tantissimi gli aneddoti Massimiliano che possiamo raccontare sì guarda innanzitutto saluto tutti gli Aquilani e per me è un grande onore essere qui oggi poi è anche vero che ogni tanto io qua torno perché voi mi pensate sempre ogni volta che c'è stato qualcosa io sono molto contento di tornare oggi sì è vero rincontro parecchi amici vuol dire pure che sono passati tantissimi anni e ci stiamo anche invecchiando tra virgolette però questo ci fa tornare indietro negli anni dei ricordi bellissimi qua io sono stato 4 anni mi ci sono trovato molto bene la gente aquilana mi ha voluto bene è una bellissima cosa tra le particolarità extracalcistiche di Massimiliano c'era anche quella Mercedes rossa che si vedeva solo quella in giro per l'Aquila quella Mercedes rossa era di Ugo Mastropietro è un tifoso me l'ha data lui l'ho tenuta parecchi anni poi è finita perché c'era già parecchi anni quando passavi lasciavi il segno insomma in campo e fuori non potevo andare in qualche posto perché era impossibile che mi mi vedevate subito perciò ero tranquillo e non c'è nessun problema senti Massimiliano a parte gli scherzi insomma ci piace ricordare anche queste cose poi è un augurio all'Aquila Calcio lo facciamo per oggi sì innanzitutto adesso è anche prima in classifica all'Aquila Calcio e io spero vivamente che quest'anno è l'anno buono che vinca il campionato e vada in interregionale in serie D perché innanzitutto quella è la categoria minima che compete a questa città poi sperando sempre che con il tempo si organizzano bene fanno altre situazioni che l'Aquila Calcio cresce vada anche nel settore professionista dove compete dove gli compete insomma e queste le parole di Massimiliano Marco Santi uno storico difensore dell'Aquila grande difensore l'anno dopo Gualdo arrivò in panchina Massimiliano Kerry altro testa a testa fino alla fine altro spareggio questa volta allo stadio sempre allo stadio Flaminio contro la Torres e andò male però arrivò la serie C perché l'Aquila fu ripescata e andiamo al 94 che è quello che voleva raccontarci Giustino Parisse no no bene nel 94 è soltanto questo episodio che vide coinvolti due due tifosi dell'Aquila Calcio Nicola Mezzacappa che purtroppo morì nella trasferta a Ponte d'Era e con lui c'era Lorenzo Castri un suo amico che le cronache ci raccontano è rimasto in coma un bel po' di tempo mi ricordo io all'epoca ero già chiaramente al giornale mi ricordo che ci fu la città fu molto coinvolta da questa da questa vicenda e soprattutto tutti abbiamo sperato che Lorenzo Castri si potesse riprendere il più presto possibile un altro un altro passaggio come dire in un momento tra l'altro guarda caso in un'annata in cui l'Aquila viene promossa come era successo come dire nel 79 evidentemente questa è una città che ha bisogno ogni tanto di bagni di sangue di vivere delle tragedie che naturalmente non vorremmo mai vivere un po' troppo però e adesso torniamo con l'Aquila Calcio che poi diciamo così non riuscì a tenere la categoria della Serie C in quegli anni ci fu uno dei no Giampaolo ma sì c'erano grossi problemi all'Aquila c'erano grossi problemi come ci sono sempre stati nell'Aquila Calcio per la gestione della società problemi di natura economica problemi legati alla gestione degli impianti problemi legati alla difficoltà di trovare diciamo una dirigenza capace di poter gestire la categoria perché oramai molto spesso vediamo assistiamo a grandi città grandi piazze che purtroppo non riescono a mantenere la categoria e questo è dovuto spesso alla necessità di dover comunque vincere comunque giocare a certi livelli ma comunque dover avere anche la possibilità di gestirli e lì le società ebbero grossi problemi grossissimi problemi proviamo in tutti i modi come amministrazione ad aiutarle questo è un tema si questo è un tema ricorrente quello degli aiuti da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti del questo è Di Chio se non sbaglio si Marco Di Chio problemi da parte dell'amministrazione ad aiutare oggi finalmente siamo riusciti sono riusciti ad affidare l'impianto sportivo di Acqua Santa che è un impianto e tutti quelli che vengono dicono quanto è bello come fa una squadra a giocare in eccellenza con un impianto così beh quella è stata una decisione presa con forza che ci ha permesso di avere un impianto adeguato per avere almeno la serie C però per fare quello ci vuole una società io Gian Paolo mi collego a quello che hai detto questi problemi sempre diciamo in anni si sono ripetuti tante volte è facilissimo fare debiti fare problematiche economiche a gestire una società non ci vuole niente l'unica cosa che noi siamo tifosi io rappresento tutto questo gruppo di amici con cui gestiamo l'Aquila e siccome ci mettiamo la nostra faccia e dalla parte dei tifosi assolutamente non potremo mai fare il passo più lungo della gamba e questa cosa però mi ricollega al discorso dello stadio prendere lo stadio in gestione per noi è stata una scelta posso interrompere Presidente ne parliamo alla fine di questo perché stiamo andando proprio per raccontare gli anni abbiamo detto che l'Aquila diceva Giampaolo non ce l'ha fatta a tenere il professionismo dopo la conquista della Serie C2 con il ripescaggio e arriviamo adesso Donatello possiamo rimetterle subito le immagini della vittoria del campionato 97-98 con Sanderra in panchina e con quella cavalcata che è stato un campionato trionfale ora lo puoi raccontare nei dettagli dall'estate da come nacque l'idea mi ricollego a Giampaolo sul discorso degli impianti perché c'è un aneddoto bellissimo noi facciamo la preparazione a piazza d'armi praticamente ci allenavamo la mattina lì e il pomeriggio al campo adiacente che era quello di calcio con delle pietre pazzesche ma la cosa più bella la mattina in mezzo alla gente è stata una cosa fantastica perché ci fu un connubio eccezionale con le persone e praticamente eravamo proprio a contatto con tutti quelli che erano già i tifosi e quindi già si partì con il pietre giusto poi un'altra mi preme raccontare che un altro protagonista fu Vittorio Aceto che con il suo ristorante aggregava tutti quanti i ragazzi e fu meraviglioso io penso che se non fosse stato per lui quel gruppo che poi si è cementato non ci sarebbe non ci sarebbe stato e poi un gruppo di ragazzi meravigliosi 4-5 di quelli più grandi che fecero ci aiutarono molto lui è Gianni Boccia comunque anche lui ha fatto una bella carriera ha fatto tantissimi gol in svariate in svariate piazze stavo dicendo i giocatori più maturi che ci aiutarono molto perché comunque fecero fecero gruppo subito e noi facevamo praticamente solo gli allenatori qualsiasi tipo di problema loro lo filtravano e poi non ce ne furono di problemi ci fu un grande gruppo e tutti tutti partecipativi tutti coinvolti tant'è vero che anche quelli che giocarono di meno comunque furono decisivi purtroppo non c'è più un giocatore di quella squadra ecco sì vorrei che lo ricordassi questa purtroppo è un'altra un'altra tragedia che si è che si è consumata che ci dà grande tristezza perché un ragazzo giovanissimo Pasquale Cagliardi che fu uno dei protagonisti e che tra l'altro ci portiamo anche l'anno dopo ha avuto una terribile malattia e negli anni seguenti ci ha lasciato e ci ha segnato anche tanto perché comunque era uno di quelli più allegri uno di quelli sempre con carattere gioiale e io mi ricordo io e Marco Onesti l'andammo a trovare tante volte e lui ci diede coraggio a noi e invece di noi di dare coraggio a lui che ci aveva visto un po' afflitti era nel pieno della malattia a lui ci diede coraggio a noi ed è una cosa indimenticabile per tanti motivi è stata una delle nate più belle della storia del calcio aquilano quella con Luca e Stefano Sanderra in panchina e ti faccio ancora i complimenti Luca per quelle belle emozioni che avete regalato l'Aquila Giampaolo in quegli anni sembrava poter avere una scalata verso il calcio che contava beh sì intanto la tipicità dei fratelli Sanderra che conducevano questa squadra ma eravate d'accordo tra fratelli quando decidevate la squadra la formazione uno si occupava della parte tecnica e un altro no ma non ci parlavamo nemmeno nel senso che ci intendevamo solo con lo sguardo perché stavamo talmente sempre insieme però era tipica poi abbiamo la tipica all'epoca era tipica poi l'anno scorso comunque con i fratelli Lore poi c'è stata un'evoluzione ma adesso tutti i grandi allenatori hanno dietro almeno un secondo che è col quale no è vero c'è anche Conte che ha comunque il fratello diciamo nello staff e quindi ci sono stati poi altri casi ma si sono stati precursori sì siamo stati dei precursori questo è vero piano piano quella squadra poi dicevo Giampaolo andò verso categorie importanti forse un sogno per l'Aquila perché arriviamo allo spareggio dello stadio Partenio di Avellino con la squadra con Aldo Amazzalorso in panchina aveva prima battuto il Fasano se non ricordo male poi ai calci di rigore no ai calci di rigore ci fu il rigore ci fu il rigore sbagliato il fallo l'ultimo uomo di Cagnale che salutiamo il grande Alessandro che era già in difesa con Sanderra Cagnale si immolò con un fallo di mano e poi lì sbagliò il rigore della Cireale l'Aquila riuscì a resistere fino alla fine e andò e andò e vinse quei playoff con Aldo Amazzalorso in panchina una giornata storica per lo sport aquilano perché contemporaneamente l'Aquila Rugby aveva battuto Treviso clamoroso risultato in trasferta a Treviso e la settimana dopo andò a giocare a Roma la finale scudetto sì esatto fu un periodo particolarmente brillante bello esaltante sono quelle cose che capitano raramente poi l'Aquila viveva di calcio e rugby per cui avere queste due squadre che vincevano tutte e due insomma era qualcosa che è rimasto a quale siamo rimasti legati purtroppo poi il tempo quello che è accaduto i drammi che abbiamo vissuto in questa città francamente ci hanno fatto dimenticare tante cose belle e gioiose dovremmo ricordare più le cose belle caro Giustino che non le cose brutte perché ne stiamo ricordando troppe di cose brutte Enrico tra le cose scusa perché perché dobbiamo citare il presidente Valentini di quell'annata che è Gabriele che poi e qui credo che Davide Di Nicola cominci a ricordarsi qualcosa lasciò la società a Michele Passarelli arrivò Perrone come direttore e una squadra che da subito fece sognare tutti a Piazza Duomo mi ricordo addirittura l'Official Point venne aperto dell'Aquila Calcio e arrivarono giocatori che per la storia recente dell'Aquila erano solo un sogno da Vincioni a Cecchini Brescia Lorenzo Battaglia e soprattutto in attacco il colpo grosso fu quello di Davide Di Nicola vai Davide raccontaci quell'estate cominciamo da lontano guarda quella è stata un'estate particolare perché io arrivavo dalla Juve Stabia da due anni lì alla Juve Stabia dove avevo fatto tra l'altro benissimo e addirittura avevo anche avevo avuto anche inizialmente qualche offerta in serie B qualche richiesta in serie B poi le cose non sono andate perché un allenatore che mi voleva non firmò più all'ultimo in quella società e mi trovai all'ultimo giorno di calciomercato prima non era come adesso che era tutto di seguito era dal primo al 15 luglio quindi chi c'era c'era altrimenti a novembre e io il 15 luglio salì il mio procuratore mi disse di salire a Fortecresta a Milano dove si faceva il calciomercato perché avrei dovuto firmare o col Palermo o con l'Ascoli queste erano le due situazioni il presidente della Juve Stabia non voleva cedermi in nessuna maniera però queste due viste si erano aperte e io in particolar modo preferivo la diciamo la situazione Palermo per una serie di cose Palermo che era lo stesso girone dell'Aquila esatto la cosa la scena epica che mi ricordo è che vedi nello spogliatoio nel box della Juve Stabia al calciomercato a un certo punto vedevo sgabbelli che volavano perché il mio presidente col direttore sportivo si erano praticamente quanto pare avevano dato una parola al Palermo non mantenuta alla fine e quindi si erano creati di sapori tanto è vero da quasi arrivare alle mani insomma quindi fu una scena dove io rimasi sbalordito mancavano due ore alla chiusura del calciomercato e incontrai Stringara Paolo Stringara e con l'allora segretario dell'Aquila Piero Puglielli che è di Avezzano e mi dissero disse guarda stiamo facendo di tutto per portarti all'Aquila e ho detto all'Aquila io con tutta la buona volontà però non avevo seguito il mercato dell'Aquila cosa stesse facendo l'Aquila quale fosse la società e sostanzialmente mi trovai a a a parlare con con il mister e mi disse i calciatori che avevano preso nel frattempo quindi Cecchini Battaglia Vincioni come quando ti hanno detto questi nomi che pensate e io ho detto qua la cosa si fa interessante perché avevo uno di questi Giuseppe Brescia che era stato il mio capitano alla spalla quando vincemmo il campionato dalla C alla B io feci una telefonata a Brescia per capire un attimino se era vero no ho detto sì come e lui mi disse guarda noi stavamo facendo uno squadrone però il mister vuole a tutti i costi una punta centrale vuole te perché lui gioca col 4-3-3 quindi gli serve una punta per un quarto d'ora io parlammo praticamente con questa cosa e firmai con l'Aquila la comica è stata la telefonata a mio padre dopo questo trambusto vai raccontacela mio padre dico questa cosa sinteticamente mio padre aspettava la mia comunicazione di Palermo o al massimo Ascoli quando ho detto papà ho firmato con chi con l'Aquila 10 secondi di silenzio perché lui giustamente non capiva la situazione di come era andare a finire la cosa così ma io ero contentissimo perché non mi stavo a chiedere quelle cose campanilistiche ho detto la squadra è forte io vado lì mi capitava da anni di non essere vicino anche a casa quindi ho detto posso anche un po' frequentare di più la famiglia e quindi ebbi proprio il grande entusiasmo e la grande motivazione perché poi capivo insomma che sulle spalle c'era un bel fardello di dover dimostrare che insomma non avevano sbagliato la scelta e poi sicuramente è stata una conferma quella che è stata l'annata un'annata che forse Giampaolo con la partita con il Palermo ha toccato il suo apice forse l'apice della storia calcistica perché poi finimmo prima in classifica come è stato ricordato prima il girone di andata gol di grossi contro il Palermo che poi andò in Serie B sì tra l'altro tra l'altro veramente sembrava l'anno buono per poter salire in Serie B quella fu un'annata particolare tra l'altro ha citato dei nomi di giocatori importanti stringara che viene all'Aquila mi chiamò la gazzetta dello sport e mi disse guarda è un po' come te l'allenatore dell'Aquila è stringara non è possibile stringara c'è la prima conferenza stampa vai perché stringara sta già all'Aquila cioè non ci credevamo che un allenatore o un mister come stringara potesse scendere all'Aquila perché stringara era convinto con la squadra che era stata allestita di fare un grosso campionato un grande campionato del resto ma vi siete dimenticati prima l'hai citato Cecchini che cos'era che era il tuo numero 7 che ti dava tanti assist Vincenzo Lanotte Vincenzo Lanotte Donatello è pronto Vincenzo perché lo abbiamo ascoltato ieri Vincenzo Lanotte Vincenzo Lanotte è amatissimo non era uno dei grandi acquisti perché aveva già vinto il campionato con l'Aquila è amatissimo ma lui ama altrettanto l'Aquila assolutamente vediamo se è pronto Vincenzo Lanotte sempre con Daniela Rosone ve lo mostriamo arriva siamo con Vincenzo Lanotte non ha bisogno di presentazioni con i ex giocatori dell'Aquila Calcio un campionato vinto 99-2000 poi anche l'anno successivo è stato con l'Aquila un legame indissolubile perché Vincenzo è tornato tante volte viene è stato sempre sensibile anche per tante manifestazioni di solidarietà oggi si celebrano i 95 anni che cosa significa essere di nuovo qui abbiamo visto i tifosi ti salutano insomma abbracci tutti ti cercano il cuore di la notte è rimasto rosso-blu sì sicuramente qua ogni volta che torno è come tornare a casa la gente nonostante dopo 22 anni ti ferma ti abbraccia quello significa di aver lasciato il segno oltre che nel lato sportivo specialmente nel lato umano quindi è tantissimo bello e poi tornare per il 95esimo dell'Aquila Calcio non me lo so fatto di due volte sono venuto subito ecco una giornata bellissima un percorso quello dell'Aquila Calcio che è stato costellato anche da delle suoni calcistiche però sono riusciti a fare grandi cose i tifosi oggi l'Aquila Calcio è veramente la squadra della gente sì sicuramente è la squadra della gente come hai detto tu Daniela io ho visto anche Giulio Spogliatoi sala stampa qua ho detto non è una squadra di eccellenza la società mette a disposizione tutto e per tutto per la squadra e spero che al più presto vengono fuori da questa categoria e queste le parole di Vincenzo la notte e il girone d'andata Davide fu perfetto quanti gol avevi realizzato tu già nel girone d'andata? ma penso la metà 12 12 eri il capocannoniere no? sì sì eri il capocannoniere anche fino alla fine come toccavi il pallone facevi i gol però purtroppo è cambiato qualcosa nel girone di ritorno è cambiato subito dopo Natale sì quella maledetta sosta praticamente io non ho mai capito cosa veramente è successo ci sono diverse versioni ma noi tornammo mi ricordo il giorno dopo capodanno a fare allenamento e ci comunicarono ci riunirono nello spogliatoio dicendoci che la situazione societaria cioè ci facciamo gli auguri a Natale quindi parliamo di 10 giorni prima andremo in Serie B addirittura faremo altri acquisti addirittura per il primato immediato senza passare per i playoff e poi ti ritrovi il 3 gennaio una società che ti dice ragazzi non c'è più un euro quindi si salvi chi può e io mi ritrovai poi in una partita giocavamo con 6 beretti perché molti erano stati messi fuori rosa perché giustamente la gente chi aveva scadenze chi magari anche soldi da prendere non aveva progetti programmi quindi l'abbandono totale mi ricordo che un giorno non c'erano neanche i palloni allo stadio quindi per noi fu traumatico perché ma poi sei riuscito mai a capire perché cambiò nel giro di una settimana a cavallo di capodanno questa situazione quella cosa è stata spiegabile perché noi non avvertimmo minimamente fino a quel punto lì dalla puntualità degli stipendi all'entusiasmo la cena prima di natale 23 sera quindi voi siete tornati al campo il 3 gennaio no io il 26 il 26 siamo tornati al campo il 27 addirittura con una un richiamo alla preparazione folle che fece all'epoca il preparatore che era lì da doverci che ci intossicò in pratica quella preparazione perché non eravamo più gli stessi però lì il dramma fu quello della settimana dopo fondamentalmente 27 dicembre 3 gennaio comunicazione di questo genere qui che noi pensavamo di essere su scherzi a parte perché sembrava una cosa irreale e invece poi è stata reale perché tirare fino a maggio in quella situazione è è stata veramente dura e dispiaceva più che altro per la gente per i tifosi perché ci avevano messo l'anima che ci avevano creduto primo io su tutti quindi poi alla fine invece non andò così abbiamo cercato di essere io personalmente professionale fino alla fine tant'è vero che sarei voluto restare l'anno dopo anche perché io avevo firmato un contratto i tre anni con l'Aquila quindi nella mia testa c'era un progetto a lungo termine che è arrivato fino al 3 gennaio sostanzialmente e poi mi sono ritrovato l'anno dopo a Rimini con tre stagioni poi nel Rimini come capitano tutto quanto che andarono anche bene sì sì vabbè lì è stata la consagrazione penso calcistica addirittura stava per andare alla Fiorentina quindi però ci speravi in cuor tuo che all'Aquila si potesse fare la storia? no per me era diventata un'ossessione perché praticamente per me essere cioè nella mia regione in Abruzzo essere partecipe anche protagonista di una scalata in Serie B sarebbe stato diciamo un sogno bellissimo piccolo fuori programma da piccolo come hai iniziato a giocare a calcio Davide Di Nicola? no da piccolo ero un grandissimo portiere quindi il mio padre fino all'età di 10 anni 11 anni anche sì perché facevo la prima media mi comprava i più quanti Walter Zenger era uno dei miei idoli e poi in una partita dove mancavano io poi mi divertivo in allenamento sempre a giocare in attacco sforbiciate cose così e l'allenatore mi dice ma tu sei convinto che sei un portiere e una partita aveva 12-13 anni dove mancavano i due attaccanti per una dissenteria il mister fece giocare l'altro portiere che non giocava mai mi mise in attacco e quindi vinsi capocannoniere nel torneo e dalla l'ha iniziato Davide Di Nicola quindi devo ringraziare quei due ragazzi che hanno avuto la dissenteria Barberio ci ricordava poco fa la partita di Paternò per andare avanti con gli anni quelle pure furono altre annate difficili Gianpaolo perché la società passo in mano ad Eliseo Iannini che fece questo passo grandissimo di caricarsi sulle spalle in una società così indebitata addirittura in un primo momento il collegio del CONI dette ragione all'Aquila e quindi l'Aquila fu riammessa al campionato però poi retrocesse conquistando credo solo 13 punti in quell'annata mentre con il gol di Vidalea a Paternò l'Aquila riuscì a fare l'impresa e poi si è ricominciato un'altra volta da capo come tante altre volte e è ricominciata un'altra grande scalata prima del terremoto che poi si è concretizzata dopo il terremoto verso la serie B tra un po' ci arriviamo ma arrivo agli anni del terremoto e torno ancora una volta da Giustino Parisse forse qui toccato in primissima persona quando si parla di terremoto con l'Aquila che ha conquistato le sue categorie superiori perché è riammessa dopo lo stop del campionato beh sì devo dire vabbè io potrei capire che in quei giorni in quei mesi anche negli anni immediatamente successivi diciamo di sport mi occupavo relativamente però ecco con mille difficoltà perché poi chi quella vicenda l'ha vissuta in maniera diretta sa che le cose sono state complicate il terremoto ha frenato la storia della città ma ha frenato anche lo sport purtroppo poi abbiamo visto a parte quel passaggio che poi ricorderai sicuramente credo nel 2013 che ci fu un'altra promozione ma poi il resto sono stati anni complicati anni difficili però io penso sempre che lo sport anche in quel momento abbia dato una grande mano alla città anche se non era il rugby che ricordavamo noi quando eravamo giovani e non era il calcio che magari ci aspettavamo però lo sport in questa città c'è sempre stato c'è ancora ci sono anche altre discipline penso ad esempio al basket sicuramente penso al nuoto che pure c'è una società importante ecco quindi certo dopo il terremoto era difficile pensare pensare ai campionati di calcio tutti sapete che i campi di calcio di tutta la zona erano diventati delle tendopoli forse credo salvo il fattore che non aveva avuto danni particolari anche se fu utilizzato per un brevissimo tempo quindi c'è stata una lunga una lenta ripresa credo che per oggi adesso grazie anche a questa nuova società e grazie credo allo spirito Aguilano che è costretto sempre a ricominciare da capo l'abbiamo detto anche prima credo che il calcio e lo sport in generale possa diventare il simbolo intorno al quale la città debbonirsi perché questa è una città che oggi ha bisogno anche di simboli identitari la perdonanza Celestino Quinto queste cose che sappiamo ma anche il calcio riportare 6-7 mila persone allo stadio significa ridare alla città un senso per guardare al futuro parole condivisibili chiaramente quelle di Giustino arrivo da te Giampaolo perché voglio ricordare brevemente che poi con il presidente Elio Gizzi prima insieme con Corrado Chiodi e i suoi soci dopo nella guida dell'area tecnica di Ercole e di Nicola l'Aquila ha provato la sua ennesima scalata alla Serie B perché prima la grandissima delusione di Prato con mister Maurizio Ianni in panchina il gol del 2-1 l'arbitro Raurediano di Bologna che attualmente è arbitra ancora in Serie A segnò il gol del pareggio della qualificazione al novantasettesimo l'arbitro aveva dato sette minuti di recupero al novantottesimo arrivò il gol del 2-1 del Prato e poi ci furono altre tante delusioni e arrivò per cambiare dal punto di vista calcistico la storia dell'Aquila Giovanni Pagliari con Giovanni Pagliari la squadra si rimise in riga parliamo dell'anno successivo e playoff prima ha battuto il Chieti e poi il Teramo prima di commentarla con te Gianpaolo io direi di andarci ad ascoltare proprio Giovanni Pagliari il tecnico della promozione dell'Aquila in Serie C1 è pronto e ci ha mandato questo videomessaggio ciao Enrico mando un abbraccio a tutti i tuoi ospiti ancora uno più grande a tutti i miei ex giocatori con cui abbiamo vissuto un'esperienza meravigliosa sia nella vittoria dei playoff per andare in C1 battendo prima il Chieti poi il Teramo e anche gli altri che hanno vissuto la cavalcata meravigliosa dei playoff per andare in Serie B con la sconfitta di Pisa nello spareggio playoff e soprattutto un grandissimo abbraccio al popolo aquilano mi avete fatto sentire uno di voi mi avete fatto vivere un'esperienza meravigliosa e poi come in tutte le esperienze della vita non ti accorgi in quel momento che stai vivendo qualcosa di unico pensi che ci sia sempre qualcosa di più e non ti godi i momenti meravigliosi che stai passando ma questa è la legge della vita io invece ho passato dei momenti meravigliosi e vi ringrazio sempre tutti quanti voi siete nel mio cuore tanti auguri per il 95esimo compleanno e sempre con tutto il cuore forza l'Aquila un abbraccio a tutti e grazie Giovanni Pagliari sempre belle le parole del tecnico Pagliari io devo correre perché Gianpaolo quest'ora e mezza insieme sta volando perché prima Giustino faceva riferimento a quel tristissimo ultimo avvenimento che ci ha visto purtroppo soffrire il sisma il sisma è stato un momento in cui noi non avevamo più un impianto sportivo io è stato l'ultimo periodo che ho fatto l'assessore lo sport il vice sindaco all'Aquila voglio ricordare che ho cominciato nell'81 la prima volta avevo 24 anni a fare l'assessore mi è venuto in mente Angelini Tonino Angelini mi è venuto in mente altri presidenti che nel frattempo ci sono stati all'epoca però rifare gli impianti sportivi significava dare un segnale alla città di riaggregazione cioè in quel periodo chi viveva all'Aquila si incontrava ai funerali e ne erano tanti ahimè purtroppo qualche volta a qualche centro commerciale ma anche fuori provincia io incontravo molte persone se venivo ad Avezzano se andavo a Roma oppure a Pescara o a San Beretto del Tronto o sulla costa all'Aquila l'unico vero punto di aggregazione dopo il sisma era lo stadio era lo stadio per andare a tifare quell'ora e mezza quei due ore trascorsi allo stadio sia per l'Aquila Calcio che per l'Aquila Rugby erano fondamentali per gli Aquilani io mi impegnai dall'inizio immediatamente convocai le due società lo stavo raccontando prima convocai le due società e gli disse decidete quale stadio volete chi è che vuole il fattore chi è che vuole lo stadio di Acqua Santa si misero d'accordo facilmente scegliendo l'Aquila Rugby il fattore in onore di Tommaso Fattori e l'Aquila Calcio scelse l'Acqua Santa dopodiché quello stadio da quel momento in poi lo stadio di Acqua Santa è sempre stato uno stadio intitolato a Gran Sasso d'Italia per me resta Acqua Santa perché quando nacque lo chiamavamo così e fu lo stadio in cui tutti quanti quando venivano dicevano non è possibile che l'Aquila giochi la serie D figuriamoci l'eccellenza anzi figuriamoci quando è ripartita dalla prima categoria ma adesso ci arriviamo Giampaolo giocare la prima categoria uno stadio come quello quando si parla dello stadio di Acqua Santa tu ne sai qualcosa perché sei stato anche un autore di questo bel gesto con la sala stampa che è intitolata Papà per me è anche molto emozionante quindi sarei felicissimo se l'Aquila possa tornare in categorie più importanti anzi ringrazio te ringrazio l'attuale società l'amministrazione per aver per aver messo il nome di Papà nella sala stampa dello stadio Gran Sasso d'Italia Italo Acconcia brevemente faccio una cronistoria di quelli che sono stati gli anni dopo Giovanni Pagliari con quella punizione di Ciccio Corapi che si stampò sulla traversa contro il Pisa dalla mano non riuscì e Ciciretti non riuscirono a spingerla dentro il Pisa di Provedelle il portiere che ieri è stato il portiere della Lazio non è andata tanto bene la Lazio ieri almeno Gian Paolo qualche soddisfazione ce la leviamo 3 a 0 in favore della Juve giusto per dirlo così lo possiamo dire era Provedelle il portiere della Pisa l'Aquila Calcio ha iniziato un altro periodo di declino con la retrocessione a Rimini con la serie D di mister Battistini che saluto che senza società sostanzialmente ottimo allenatore senza società sostanzialmente fece il massimo e poi il fallimento della gestione Chiodi e l'ascellerata mi è consentito questo termine gestione della prima categoria veramente una cosa forse la pagina più bassa della storia dell'Aquila per tanti motivi poi sono arrivati i tifosi sono arrivati sono arrivati Piffio Marco e Giulio è arrivata una società nuova ora con il presidente Barberio sono arrivati tanti soci che hanno dato una grande mano adesso c'è Salvatore Di Giovanni e l'Aquila ha intrapreso un percorso nuovo un percorso di organizzazione intanto dove vuole arrivare siamo in chiusura ce lo dice Barberio allora noi va bene innanzitutto noi teniamo al discorso gestionale quindi di avere una sana gestione perché l'Aquila appunto viene da troppi fallimenti come dicevo prima è facile fare delle male gestioni prendiamo giocatori spendiamo facciamo diciamo e non ci vuole nulla ad indebitare la società noi non lo possiamo fare non ce lo possiamo permettere perché l'Aquila ha debiti zero questo lo diciamo ha debiti zero assolutamente lo confermo e abbiamo fatto probabilmente no probabilmente sicuramente un passo che è quello della gestione dell'impianto che non ha fatto mai nessuna società nella storia e Gian Paolo penso che sa di che cosa parlo perché gestire una struttura del genere che è bellissima è favolosa vengono tutti a vederlo l'abbiamo migliorato tantissimo non so se ieri stava qualcuno in sala stampa abbiamo mandato un video con i lavori mano a mano che abbiamo fatto che però ha delle diciamo delle delle impianti l'impiantistica con con cognizioni degli anni 80 quindi accendiamo una caldaia accendiamo tutta la stecca degli spogliatoi per cui con gestioni veramente difficili le dobbiamo fare in maniera accurata come facciamo come stiamo facendo cercheremo di fare degli interventi anche strutturali su questo non avevamo dubbio vorrei siamo proprio in chiusura Barberio dichiarare a tutti gli amici dell'Aquila che ci stanno guardando in diretta noi siamo qui dal teatro stabile dal ridotto del teatro stabile ma tutti gli amici che ci stanno guardando da casa l'obiettivo dell'Aquila Calcio a medio lungo termine volete portare l'Aquila in che categoria risponda sincero Barberio allora noi sinceramente vorremmo riportarlo nel calcio professionistico ovviamente deve essere una cosa con una progettualità così come ci stiamo muovendo in questo senso e la struttura le parti strutturali degli impianti ovviamente dovranno fare la parte da padrona perché senza strutture il settore giovanile non lo riesce a gestire e quindi noi ce la metteremo tutta Gian Paolo in chiusura sì soltanto questo un appello all'amministrazione essendo stato un amministratore bisogna stare vicino alle società che gestiscono gli impianti perché le società da sole noi la fanno l'idea di affidare dello stadio di Acquasanta all'Aquila Calcio e il fattore all'Aquila Regui mi nacque in occasione di una partita all'Aquila Perugia è giocata all'Aquila quando Elio Liberati assessore allo sporto del comune di Perugia al mio fianco seduto gli chiesi come faceva Perugia a gestire lo stadio e il Perugia a gestire lo stadio disse se ce l'hanno dato lo gestiamo e gli feci fate tutto da soli no il Perugia ci dà la città di Perugia il comune di Perugia ci dà 200 mila euro l'anno ora io credo che le amministrazioni comunali debbano stare a fianco perché se facciamo due conti e se io mi ricordo quanti dipendenti quanti funzionari quante lavori c'era bisogno in ogni occasione quante polemiche ebbe anche con Franco Giancarli quando si arrabbiava perché lo stadio Fattori non era adeguato a quelli che erano gli standard quante polemiche perché non c'erano gli impianti aveva ragione papà sicuro certo quante polemiche perché non c'erano gli impianti per gli allenamenti ricordo Florimbi che mi veniva veramente a pietire dice come facciamo noi ad allenarci non abbiamo la possibilità con uno stadio dove ci giocava il calcio e il rugby se l'amministrazione veramente davvero e oggi ha la possibilità perché oggi le amministrazioni comunali hanno tanti soldi hanno grandi possibilità non era come all'epoca nostra dovevamo fare i conti veramente con gli spiccioli io so che questa amministrazione è attenta e auguro che possa aiutare voi come le altre società che gestiscono gli impianti con il messaggio di Gianpaolo Arduini ci fermiamo qui spero che questo lungo racconto di 90 minuti della storia dell'Aquila Calcio sia stato gradevole per voi che ci avete seguito da casa datemi solo tempo di ringraziare Mauro Volpe e Daniele Mastracci del Vol Sound che sono i tecnici qui al ridotto del teatro stabile con Donatello Ricci per la regia e con Alberto Capo per le riprese la regia di Andrea Di Fabio e Francesco Berardinelli dallo studio centrale di Reteotto Luca Sanderra che ha guidato l'Aquila nel 97-98 con uno straordinario campionato vinto Gianpaolo Arduini storico giornalista e non solo dell'Aquila ciao Gianpaolo grazie in bocca al lupo al presidente attuale Francesco Barberio grazie a un'altra firma con la F maiuscola tra l'altro è stato l'unico ad aver intervistato il Papa quest'anno Giustino Parisse grazie Giustino Pietro Ferzoco storica figura del calcio aquilano grazie Pietro Ferzoco e Davide Di Nicola forse l'attaccante più forte che ha avuto la storia del calcio aquilano ciao Davide grazie a voi che ci avete seguito da casa e ci vediamo con i nostri prossimi programmi un saluto dal ridotto del teatro stabile dell'Aquila grazie a tutti i nostri prossimi